amici nella quinta puntata di bellezza italiana parleremo di mantova mantova la città fortificata addosso al mincio mantova ha tre momenti nella sua storia artistica il primo momento è nel l'alto medioevo che fu feudo dei canossa mantova nel periodo dei canossa ebbe una grande architettura la rotonda di san lorenzo che a forma circolare ed ispirata al tempio del santo sevocchio di gerusalemme in questo tempio erano custodite le reliquie del sangue di cristo che vennero portati da longino il soldato romano che trafisse gesù durante la crocivissione a mantova nel secondo secolo avanti dopo cristo poi abbiamo dopo i canossa abbiamo i buonaccorsi che costruirono dei palazzi molto stupefacenti il palazzo del capitano del popolo e palazzo buonaccorsi tutti stile medievale con le guglie perfette i balconi i portici bellissimi e abbiamo pure la chiesa di san francesco a mantova dove stanno le storie di san francesco affrescate da stefano da verona dopo i buonaccorsi abbiamo il trionfo di mantova con i gonzaga la celebre dinastia di gonzaga che chiamarono artisti di tutta italia pensiamo al mantegna nato a mantova dove sta la casa mantegna che fece la camera picta la camera degli sposi bellissima tutta la corte il cerchio del soffitto con gli angeli tutti le varie famiglie gonzaga le scene mitologiche pensiamo che mantegna studia a padova l'antico pensiamo che viene chiamato il classicista archeologico del rinascimento mantegna che studia proprio i capitelli gli archi di trionfo pensiamo pure ad altre opere che stanno in mantegna pensiamo alla madonna della vittoria nella chiesa della madonna della vittoria a mantova pensiamo che mantegna fece i trionfi di cesare un grande classicismo tra colonne storie mitologiche orfeo le storie di cesare che purtroppo sono state portate via a londra nel lapto court un palazzo reale nel seicento furono acquistata giacomo primo steward poi mantova a tanti altri artisti pensiamo a leon battista alberti che rivoluzionò mantova pensiamo alla basilica di sant'andrea la sessione aura la volta a botte un'unica lavata perfetta pensiamo al castello di san giorgia palazzo ducale il castello di san giorgia il primo insediamento che poi viene fatto pure il palazzo ducale dopo con i gonzaga francesco secondo ludovico terzo pensiamo che mantova tiene tante belle chiese pensiamo al duomo dove è custodito una grande architettura perfetta pensiamo alla fasciata con le colonne corinzi poi abbiamo i due tempi palatini san sebastiano e di santa barbara con campanile vicino bellissimo architettura albertiana belli a forma rettangolare con le tombe dei gonzaga pensiamo che dopo il mantegno e l'alberti ci sta giulio romano che fa palazzo tè le sale dei giganti giganti zeus che si combattono nell'olimpo palazzo tra un'altra architettura stupefacente con la fruttiera fuori la struttura d'arco fuori pensiamo pure a palazzo san sebastiano c'è un museo bellissimo della città con opere pure del mantegno opere antiche bellissima mantova vi consiglio di andarla a vedere una città palazziale con le piazze tipiche piazza sordello piazza del castello piazza sordello c'è il cuore medievale palazzo capitani e paolo palazzo palazzo buonaccolsi la rotonda di san lorenzo il duomo a piazza castello ci sta il palazzo ducale cassè san giotti poi ricordiamo che a mantova è nato virgilio e nessuno lo sa virgilio è l'autore delle bucoliche delle georgiche delle neide tra i grandi capolavori di cui alcune storie sottratte a mantegna da giulio romano per decorare palazzo tè e palazzo ducale amici spero di non avervi annoiato con la bellissima mantova una città favolosa ci vediamo mercoledì per l'ultima puntata di questa prima stagione che sarà la bellissima città dei sassi matera ciao